Ciao ragazzi e benvenuti in questo sesto episodio di Nerd Place, c'è posta per nerd, il format più discontinuo e incoerente di YouTube. Se seguite la storia del canale saprete infatti che questo format aveva intanto diversi nomi e ha cambiato più volte modo di pubblicazione, tempo di pubblicazione, modalità di pubblicazione, comunque è cambiato tantissime volte. Non so se cambierà altre volte, ma vista la mia mentalità contorta, molto probabilmente sì, ma al momento ci troviamo nel cambiamento numero 2500 e siamo semplicemente alla pubblicazione semestrale di questo Nerd Place. Infatti il quinto episodio uscito a luglio 2022 comprendeva gli arrivi arrivati appunto nei primi sei mesi del 2022, invece questo video che sta uscendo a gennaio, non so esattamente il giorno, ma gennaio è sicuro, sta uscendo per inquadrare gli arrivi che mi sono arrivati, scusate la ripetizione, negli ultimi sei mesi del 2022. Ho già parlato abbastanza, ma vi informo prima di iniziare che in descrizione intanto trovate tutti i link di tutti i prodotti che vedrete oggi in questo video, comprese le collaborazioni che ho comunque da tempo con diversi siti, e sempre in descrizione trovate i link dei miei social, tra cui Instagram, TikTok e Letterboxd, social in cui mi sono iscritto da relativamente poco e che mi sta interessando abbastanza, quindi vi invito a seguirmi anche su Letterboxd e su tutti gli altri social naturalmente. TikTok lo sto usando un po' di più nell'ultimo periodo, comunque andate a controllare i link nella descrizione. Direi di partire subitissimo con gli arrivi di Pampling, con gli acquisti di Pampling perché sono cose che ho comprato io, per chi non conoscesse Pampling è un sito di t-shirt e articoli nerd con cui collaboro da più di tre anni, e se inserirete infatti il codice ILPENSIERO4 al momento del pagamento avrete la possibilità di scegliere un paio di calze, inserirle nel carrello e queste calze vi costeranno 0€ perché infatti sarà un regalo del sito e del mio codice. Mi raccomando, ILPENSIERO4 se volete supportare il mio canale e avere un paio di calze gratis. Partiamo quindi proprio dalla t-shirt che indosso, ovvero quella dell'Ele Fire Club. Visto che stiamo parlando di Eddie Manson e di Stranger Things, ho seguito semplicemente la moda con questa cover per il telefono, con Eddie Manson che suona Master of Puppets e basta, questo è il design. Sempre di cover parliamo, infatti ecco qui quella del Garpez, Stupendo design di Aldo Giovanni e Giacomo, di Tre Uomini e una Gamba, che non è l'unico design a tema Italia in pampling, infatti nell'ultimo periodo ne hanno aggiunti tantissimi, compresi quelli del Fantasarremo nell'ultimo periodo. Tornando alle t-shirt dovrebbero essere in teoria tre, solo che una è a lavare perché l'ho usata di recente, quindi non l'ho adesso. Avrei dovuto non metterla per fare questo video, però vabbè. Però il design è questo, stupendo, letteralmente. Comunque le t-shirt che ho a portata di mano, che posso farvi vedere direttamente, sono questa qui di Pulp Fiction, più o meno, con questo stile cartunoso dei due protagonisti che giocano a laser tag, non so se è laser tag però c'è il simulatore di pistola, ok? Non si può non amarla. Come non si può non amare The Office, che è la mia serie preferita. Ed infatti ecco qui la t-shirt, stile comic, stile fumetto americano, del famoso meme con Steve Carell, o Michael Scott, che dir si voglia, del No Guard Please. Quanto è bella, regà. Non vedo l'ora davvero che aggiungano altri design a tema di Office su Pampling, perché per ora ce ne sono solamente due, e ne voglio altri. Passando poi ai Funko Pop di questi sei mesi, che sono davvero tantissimi, si dividono per acquistati e mandati dal Phantasia Store, ma quelli acquistati sono comunque stati presi dal Phantasia Store, in pratica mi fornisco solamente lì. E anche questo è un sito con cui collaboro da quasi tre anni, per quanto riguarda il Phantasia Store, e ha un catalogo vastissimo che va appunto dai Funko Pop, ai giochi in scatola, carte collezionabili, carte da gioco, manga, fumetti, chi più ne ha più ne metta, c'è davvero tantissima roba, quindi vi consiglio di dare un'occhiata al sito. Anche in questo caso c'è il mio codice personalizzato, ovvero Andri5, che vi darà la possibilità di avere il 5% di sconto su tutti gli articoli del sito non già scontati. Codice illimitato, anche per Pampling il codice è illimitato, potete usarlo tutte le volte che volete. Iniziamo con quelli acquistati dal Phantasia Store, che sono comunque molto meno di quelli inviati, Doctor Strange Zombie da Doctor Strange The Multiverse of Madness, Moon Knight dalla stra-vega strepitosa serie, Disney Plus non ci credo nemmeno io, scusatemi, Miss Marvel Kamala Khan con il costume definitivo da Miss Marvel, Gore da Thor Loventander, personaggio che comunque mi è piaciuto in un film non così tanto apprezzabile, ultimo ma non meno importante da Infinity War, l'Iron Spider di Peter Parker, che tengo dentro un soft protector regalato dal Phantasia Store, non perché c'è la collaborazione in atto da qualche anno, ma perché il sito regala un soft protector a tutti quelli che acquistano un pop regular dal sito. Ogni pop è un protector regalato, ed è una cosa magnifica. Naturalmente il link del Phantasia Store è nella descrizione, con tutti i link di tutti gli altri prodotti che vedremo fra poco. In realtà con i Funko Pop non ho finito, perché adesso passiamo effettivamente a quelli che mi hanno inviato per i video, che trovate comunque sul canale, quindi se volete più nel dettaglio una panoramica sui pop, che qui passano più velocemente, guardate quei video, tanto sono tutti nella playlist degli unboxing. Iniziamo quindi dal movie moment di Harry Potter, la battaglia, la prima battaglia tra Harry e Voldemort nel calice di fuoco. C'è questo pop, senza scatola, perché effettivamente il Phantasia Store dà la possibilità di acquistare anche dei pop senza la scatola, che costano naturalmente molto molto meno. Passiamo poi a Venom, dai fumetti fortunatamente non il film, i due film orribili, 11 dalla quarta stagione di Stranger Things, e Rocky Balboa per il 45esimo anniversario della saga di Rocky, saga che in realtà ho visto quest'anno per la prima volta e che è diventata una delle mie preferite. Infatti Creed 3 lo attendo davvero tantissimo. Continuando sempre con i pop inviati dal Phantasia Store per dei video in collaborazione, questa volta tutti a tema MCU, abbiamo Thor da Thor Love and Thunder, Mighty Thor da Thor Love and Thunder, Ironheart da Black Panther Wakanda Forever, Namor, lo chiamerò sempre Namor, non ditemi di chiamarlo Namor, da sempre Black Panther Wakanda Forever, Okai da Okai, Wong dalla strabiliante serie su She-Hulk, anche in questo caso, oddio mio, Bruno da Miss Marvel, Doctor Strange, la variante principale del film da Doctor Strange in The Multiverse of Madness, e dallo stesso film America Chavez. Concluso con i Funko Pop, vi ricordo intanto che li trovate tutti sul Phantasia Store, codice Landry 5 per avere il 5% di sconto su tutti i prodotti non già scontati, passiamo ai Lego. Con questo Brick Sketches di Miles Morales, eccolo qui costruito, ma il pezzo forte è senza alcun dubbio... Che bello ragazzi. Non so se riesco a prendervelo costruito, non lo so, ho paura, però lo prendo. Eccolo qui in tutta la sua grandezza. That's what she said. Continuiamo con questo, semplicemente, che ho acquistato per il mio diciottesimo, infatti in questi ultimi sei mesi ho fatto 18 anni, a settembre, il 13 settembre, e siccome era una festa a tema cinema, ho voluto prendere un Chuck, che comunque sfrutto anche per i video recensione, se mi seguite lo saprete. Passiamo ai poster, per farveli vedere, mi devo per forza allontanare, il poster del Gatto con gli stivali 2, l'ultimo desiderio. Sempre di gattini parliamo con il poster di Black Panther Wakanda Forever. Infine di questa grandezza il poster di Everything Everywhere All At Ones. Sono riuscito a dirlo a primo colpo. Dicevo di quella grandezza perché effettivamente di poster ce n'è ancora uno, ma è questo. Incorniciato. Passiamo poi all'unico videogioco preso in questi sei mesi, e sto parlando di The Last of Us parte 2. Ho già comprato il tempo fa, tantissimo tempo fa il primo, non l'ho ancora finito. Mi scuso con tutti, potete tranquillamente disiscrivervi dal canale, ma comunque sto andando avanti, perché infatti oggi, giorno in cui sto registrando, 16 gennaio 2023, è uscito il primo episodio della serie su Now, e quindi vorrei prima finire il gioco e poi guardare la serie, o comunque sì, iniziare la serie, ma sperando di riuscire a finire il gioco prima della conclusione effettiva della serie su Now, su Sky, su Now, dove volete vederla la vedete. Super mega regalo di compleanno, il mio diciottesimo come ho già detto. Se mi seguite su Instagram saprete che sto cercando di impegnarmi nel suonarla, perché non sto prendendo lezioni, non voglio prendere lezioni, la uso solamente come passatempo, come hobby, e volendo fare un po' meno il modesto, sinceramente da autodidatta, in quattro mesi, di progressi ne ho fatti, secondo me, ma il giudizio spetta a voi. Quindi andate a seguirmi su Instagram, così non vi perdete quando pubblico nelle storie qualche pezzo suonato con la batteria. Passiamo ai libri e ai fumetti, iniziando con Timeless, questo spillato con una storia completa all'interno, infatti costa 5 euro, che alla fine in realtà ora è il prezzo dei semplici spillati di una serie a fumetti, però questo ha già una storia completa al suo interno. L'ho preso perché volevo intanto conoscere di più il personaggio di Kang, in vista anche del futuro dell'MCU, ma soprattutto di Ant-Man and the Wasp Quentumania, e se non l'avete ancora letto vi consiglio assolutamente di leggerlo, sì per conoscere il personaggio, ma anche perché è proprio una storia interessante. Ci troviamo sempre nei paraggi Marvel con il must-have di Spider-Man nel Regno dei Morti, devo ancora finire di leggerlo, mi è stato consigliato da uno di voi, quello che sto leggendo al momento comunque mi sta interessando molto. Ci sarà un motivo del resto se si trova nella collezione must-have, quindi da avere assolutamente. Ancora una volta Marvel con Fantastici 4, la storia della nostra vita, sulla falsa riga, diciamo, di Spider-Man, la storia della mia vita, e poi J. Jonah Jameson, la storia della mia vita, questo non l'ho ancora minimamente aperto, non voglio nemmeno vedere i disegni perché non voglio spoilerarmi nulla, assolutamente. Mi è stato detto che è davvero commovente, siccome già mi stavo commuovendo con il fumetto, il mega fumetto su Spider-Man, che vi consiglio ovviamente di leggere, voglio vedere se riuscirò a commuovermi anche con questo, i Fantastici 4 non sono mai stati i miei supereroi preferiti, quindi vediamo. Passiamo poi all'unico manga che ho preso, ovvero il numero 9 di Chainsaw Man, mi manca ancora l'8, già, se mi conoscete saprete che avevo già sette numeri di Chainsaw Man messi nello scaffale, e lì sono stati per più di un anno. Non li ho letti, almeno ho letto in realtà il primo numero, il secondo gli ho dato una sbirciatina, ma non eccessivamente. Poi è arrivato l'anime su Crunchyroll, gli ho dato un'occhiata, e dire che mi è piaciuto è poco, non è chissà che grande anime, ma mi ha intrattenuto molto, quindi sono davvero curioso di continuare nella storia di Chainsaw Man, perché l'anime si ferma, se non sbaglio, al quinto volume, ad un capitolo del quinto volume, nemmeno lo conclude, quindi devo andare ancora avanti. Ho ripreso a leggerlo dal secondo da capo, quindi ho riletto il secondo, adesso mi trovo al quarto capitolo, al quarto volume. Mi sto sì un po' portando avanti con gli acquisti dei volumi, però stavolta penso di leggerla, e non farle prendere polvere nello scaffale. Ultimo, ma non meno importante, anzi, visto il libro, molto importante, mi sono deciso finalmente di acquistare Coraline, il libro da cui è tratto il film. Coraline è uno dei miei film preferiti in assoluto, e anche se il libro si discosta un po' dal film in stop motion di Henry Selick, da fan del film non potevo che prenderlo, e mi domando perché non l'abbia preso prima. Arriviamo quasi alla chiusura di questo enorme video con i film. Film in DVD, Blu-ray, 4K, Steelbook, comunque i film. Film e serie in realtà, perché Warner ha deciso di inviarmi il DVD contenente due dischi di And Just Like That, la serie sequel di Sex and the City. Non ho mai visto Sex and the City, non so se la guarderò mai, però comunque grazie mille per il pensiero. Sempre Warner mi ha inviato la reunion per i vent'anni di Harry Potter, e questo è stato super gradito, assolutamente. ho avuto modo di dargli un'occhiata a cosa che non avevo ancora fatto, quindi grazie mille Warner. E sempre da loro l'arma dell'inganno. Non l'ho ancora visto, credo che lo recupererò comunque. C'è un cast interessante, la storia letta dietro il DVD sembra altrettanto interessante, quindi un'occhiata si può dare tranquillamente. Passando ai Blu-ray, Universal mi ha inviato Minions 2 come Gru Diventa Cattivo, gli ho dato un'occhiata, non è il tipo di film ovviamente indirizzato a me, al pubblico della mia età, del mio genere, ma se devo essere sincero, capendo anche il tipo di film che ci troviamo davanti, non è poi malaccio. Tornando a Warner, i ragazzi mi hanno spedito Don't Worry Darling, sempre in Blu-ray, e Beetlejuice in 4K Ultra HD più Blu-ray. Arrivando invece ai Blu-ray che ho comprato, abbiamo Spider-Man No Way Home con il magnete. Sapete, io ho rivalutato tantissimo il film in negativo, ma il Blu-ray comunque bisogna averlo, anche perché, avendo una mente completista da far schifo, ho letteralmente tutti i film di Spider-Man in Blu-ray e quindi anche Spider-Man No Way Home bisognava prenderlo. E poi in realtà il Blu-ray l'ho comprato prima che rivalutassi il film, quindi Lego Batman il film, su Amazon costava 2,30€, quindi ne ho approfittato, anche perché adoro questo film. Sempre da Amazon ho preso, con un grandissimo sconto, la collezione Blu-ray dell'Hobbit e il Signore degli Anelli, l'ho presa ad agosto, perché tra me e me mi sono detto, ok Andri, prima che arrivi gli Anelli del Potere devi guardare tutta la saga del Signore degli Anelli e dell'Hobbit. Tutte cose le devi guardare, perché effettivamente è uno di quei recuperoni che dovevo ancora fare. E che devo ancora fare, perché ho visto solo metà del primo, il Signore degli Anelli, quindi faccio schifo, lo so. Ecco il motivo per cui non vi ho ancora parlato degli Anelli del Potere, perché non saprei parlarvene, visto che non ho ancora visto nemmeno i film originali. Per ora non mi interessa. Ovviamente prima o poi guarderò l'Hobbit e il Signore degli Anelli, anche perché prima di vedere Star Wars, prima di vedere Harry Potter, cose che ho recuperato di recente, negli ultimi cinque anni comunque, avevo la stessa poca voglia che ho adesso per Il Signore degli Anelli di vederli. E sinceramente me ne sono pentito, quindi speriamo succeda anche per questi sei film. Continuiamo con i Blu-ray acquistati, sempre da Amazon, ve li faccio vedere tutti e quattro assieme. Happy Fit, La Fabbrica di Cioccolato, Il Regno di Gaul e Polar Express. In realtà sembrava dovessi continuare, ma no, Polar Express è l'ultimo, sono quattro. Perché vi ho fatto vedere questi quattro Blu-ray assieme, che all'apparenza sono film che non hanno nulla a che fare l'un con l'altro? Ed effettivamente avete straragione, non c'entrano nulla l'un con l'altro. Però un giorno guardando la mia collezione di Blu-ray ho detto nella mia collezione manca Polar Express. Manca anche La Fabbrica di Cioccolato, che nonostante tutto sono cresciuto con quel film, quindi un sentimento c'è. Sono andato su Amazon, ho controllato il prezzo del Blu-ray singolo di Polar Express e il Blu-ray singolo di La Fabbrica di Cioccolato, di Cioccolato, sei euro a testa, centesimi più, centesimi meno. Trattenendo però queste parole nella barra di ricerca, scendendo un po', con il cursore, ho visto che c'era una collezione famiglia che conteneva quattro Blu-ray, tra cui i due film che mi interessavano proprio in quel momento, quindi La Fabbrica di Cioccolato e Polar Express. E ovviamente conteneva anche Happy Fit e Il Regno di Gaul, il film di Snyder, forse il miglior film di Snyder. E sapete il prezzo di questa collezione famiglia che conteneva due Blu-ray che mi interessavano, che costavano sei euro a testa? Bene. Otto euro. E con otto euro mi sono portato a casa il Blu-ray della Fabbrica di Cioccolato, che costava sei euro, il Blu-ray di Polar Express, che costava altri sei euro. Non ho controllato quanto effettivamente costassero Happy Fit e La Leggenda di Gaul, ma sono comunque due film in più. E l'intera collezione è costata meno di quanto avrei speso prendendo i due Blu-ray singoli. Ma ragazzi, vi ricordo ancora una volta che tutti i link di tutti i prodotti sono nella descrizione. Quando c'è una collaborazione, comunque ci sono tutte le informazioni tra codici e vantaggi sempre nella descrizione prima dei link. Vi invito ancora una volta a seguirmi sugli altri miei social, Instagram, Twitter e TikTok. Vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine di questo video. Io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi. Noi ci vediamo sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao. Ciao.